ambizioni perché è giusto amare il tempo che dedichiamo a qualcosa qualsiasi cosa essa sia che io abbia voglia di camminare poi anche di volare, correre e saltare che io sia clemente con voi e con me stessa che io smetta di chiedere e non dosi il donare più forte è colui che sa fermarsi e amare grazie